Salve a tutti ragazzi qui c'è anche i Parla e benvenuti in questo nuovissimo video dove apro tre bustine, no quattro scusatemi sono quattro, sono tre di ultra prisma e uno di sole e luna, nel titolo però mi sa che metterò soltanto le tre di ultra prisma e vabbè, vabbè si, cominciamoci ad aprire, abbiamo prima questa di sole e luna, è proprio sole e luna si, ah comunque io avevo cercato di caricare il video di OSM ma non capisco perché dall'iPhone quando poi carico il video non mi carica anche l'audio, infatti ho spuntato senza audio il video e non ho capito il perché se qualcuno magari sa come risolvere ed è tanto gentile da dirmelo, lo ringrazierei tantissimo e gli mando un velenacule o così dal nulla oh, è incredibile, l'Urantis GX, che culo, oh figo questo po', è molto molto, oh mio dio beh, andiamo con ultra prisma, ultra prisma ho visto un po' le carte del set e mamma mia, tanta roba davvero, peccato che non prendo nulla ah comunque si, molti mi avete scritto di fare aperture tipo calciatori e roba del genere eh, ma avrei voluto però, mi sa che per ora non è possibile vediamo magari tra un pochettino che torno a casa e vediamo mei gherna, mei gazzi, mei coglioni eh, vabbè, si, apriamo, continuiamo ad aprire con questo, bu, questo galè, bu, questo io, ve l'ho detto, mi sono completamente perso, che figo sto cerro qui, guardate che bello wow spumete, ah qua possiamo trovare le carte prisma, le nuove carte, eh eccola, l'ho chiamata, incredibile dark cry prisma poi vabbè me la leggerò un po', che cosa c'hanno che poi è strano perché dovrebbe spuntare come reverse eh, ah no, ah no, infatti era reverse perché questa era rara, ho capito va bene, scusatemi, non mi lamentò più eh, eh, vabbè e andiamoci ad aprire l'ultima bustinazza ah, comunque se avete dei codici che non usate, mandatemi lì, eh cioè, io dico, non li rifiuto vabbè, un po' la carta e robaccia un bastion reverse e un empoleon che non è olo incredibile, però c'è il mazzo eh, ma abbiamo già finito? ma no ma sì, o no, un po' di polli vabbè ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like questo è tutto, alla prossima domanda ciao ciao ah, e rispondetemi su quella cosa per i video dall'iPhone mi raccomando, piccoli informatici hacker, qualcosa del genere ciao